L'Università come garanzia di apertura internazionale è l'argomento forte su cui punta l'Ateneo di Trieste che oggi ha inaugurato il proprio anno accademico. Raffaele Cappuccio. Trent'anni di Erasmus. Da questo anniversario ha preso spunto l'intervento del Rettore Maurizio Fermeglia. Il programma di mobilità in tutta Europa ha coinvolto 4 milioni di studenti. Ha sottolineato il Rettore, oggi costituisce un antidoto al pericoloso populismo anti-europeo. L'Ateneo triestino negli anni 70 e 80 ebbe un ruolo fondamentale per la partenza del programma. Lo ha ricordato la professoressa Sofia Corradi, ideatrice dell'Erasmus, che ha riconosciuto un grande merito all'allora Rettore Gianpaolo De Ferra. A un certo punto nel 76 tutto stava per arenarsi perché c'era stata una burrascosa assemblea e fu l'iniziativa personale del Rettore De Ferra di Trieste facciamo un seminario dei rettori di tutta l'Europa e lo facciamo a Trieste e così il negoziato si è rianviato e poi nel 1987 l'Erasmus è nato. Nell'anno accademico appena concluso quasi 600 studenti dell'Università di Trieste sono andati in altri paesi europei e l'Ateneo ha ospitato oltre 200 universitari stranieri. Con un messaggio inviato all'Università la Ministra Valeria Fedeli ha comunicato di aver chiesto alla direzione del suo di Castero di elaborare una strategia finanziaria per permettere agli studenti meritevoli, anche se non abbienti, di partecipare all'Erasmus. Tornando al contesto di Trieste è ben definito il percorso verso l'internazionalizzazione. Si estrinseca in rapporti diretti con altre università anche in paesi difficili come l'Iran ma soprattutto un'alta percentuale, circa il 9% di studenti stranieri e un'offerta didattica in inglese che serve appunto per attrarre questi studenti, quindi un'università proiettata verso il mondo.